Sì, 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 ok, mi tocca a voi. Provate a cambiare la mano. Ora provate a mettere le mani verticali e a giocare una mano con l'altra. Riuscite a percepire dove sono le perte giocare con l'edita, lentamente, e poi provate a espandere. A espandere. No, 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 allora, non così, perché con l'altra, cioè proprio, capisci, vedere come cresce l'intensità dell'energia come tu allarghi le mani. Un elastico. Lo sentite espandere? Sì. 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 Sì.